Facciamo un grande applauso a Diego Fusaro che non ha bisogno di presentazioni, altro volto che con affetto seguiamo in televisione, quindi due personaggi del mainstream, io al centro, si potrebbero fare molte battute, ma credo che nessuno dei due sia contento di essere considerato mainstream, quella è la prima provocazione che vi devo dire. La seconda, così entriamo subito nel merito e poi taccio, così mi diverto ad ascoltarvi, a prendere appunti. Io quando me l'ha proposto Federico, Federico ed io siamo molto amici, facciamo un applauso a Federico perché mi ha coinvolto, quindi lo ringraziamo, mi ha promesso. Ci sono un sacco di applausi, sponzi, 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 io lo faccio per tenere gli svegli, così diranno, ma questo chissà che dice, quindi si alza la soglia di attenzione. Ma al di là di questa battuta, io sono veramente orgoglioso di questa scelta di Federico, spero che non si penta, perché quando mi ha detto di moderare Pier Giorgio Di Fredi, ho detto, ma tu ti rendi conto che sono due, ecco, qua vediamo sulla prima cosa, spero intelligente, poi vediamo se loro la accettano. Stiamo parlando di due colonne del pensiero laico. Tu vai a dire a un mezzo prete come me, Modera, su un tema, poi mi ha detto il tema, ha detto le intelligenze artificiali. E allora io gli ho detto di sì, perché? Perché come presidente della Fondazione Innovation, il mio padre spirituale, il padre spirituale della Fondazione Innovation, che si occupa di promuovere la cultura della vita, è Monsignor Paglia, tra le cose che fa la Fondazione Innovation, gli stati generali della sostenibilità, dove poi oggi abbiamo parlato pure delle giornate internazionali della libertà a New York, quindi ho detto, quasi quasi, io non sono modulo, ma rappresenterò qua. Il peccato di presunzione rappresenterò quel mondo cattolico che io spero, se siete d'accordo, sull'intelligenza artificiale sta facendo tantissimo, perché il mondo cattolico vuol dire il Santo Padre, vuol dire Paolo Benanti, quel prete che la Meloni ha nominato, il Francescano lo avete presente, che ha nominato capo dell'autority su questi temi del digitale, lo stesso Monsignor Paglia, che poi tra virgolette, per l'anzianità è un grande e quindi ci tiene tutti lì pronti a ragionare su che cosa? Sullo sviluppo integrale della persona, quindi in apparenza un matematico, un filosofo, già sembrerebbero mondi lontanissimi, accomunati dalla cultura scientifica, dall'adesione al pensiero positivo e quindi anche se volete alla speranza, no? Perché il pensiero positivo vuol dire comunque che alla fine finché c'è vita c'è speranza. Voi correggetemi sempre, quindi prendi nota se Stedius sta dicendo, ma ora lo metto a posto io. E io ci tengo moltissimo a invece farvi notare come alla fine della fiera sono convinto che questi campioni del laicismo, questi personaggi che vi ho offerto, il Santo Padre, Monsignor Paglia, Paolo Benanti e tutti i vari amici accoliti come me che seguono questa idea che non dobbiamo, ecco altro punto sul quale dovete intervenire, non dobbiamo avere, esatto, quello no, lasciamolo stare, non dobbiamo avere paura dell'intelligenza artificiale. E di fatto, pensateci, già viviamo, grazie all'intelligenza artificiale abbiamo migliorato tanto la medicina, grazie alle intelligenze artificiali facciamo delle cose in medicina che erano impensabili 5-10 anni fa. Io mi occupo sempre con la fondazione, anche di ricerca presso il Policlinico Gemelli ed è stato fatto, grazie allo sviluppo scientifico, un salto in alto per il quale non bisogna avere paura. Ma ci sono le mani e io sono convinto che a questo punto, anche grazie alle loro produzioni di libri, in particolare c'è del marcio in occidente, quest'estate ce lo siamo scambiati, quindi ce lo siamo sorbiti, ce lo siamo sorbiti, anche perché poi il personaggio merita, voi lo conoscete, il personaggio non è un anticapitalista manieristico e quindi un personaggio interessantissimo e quindi scrivere c'è del marcio in occidente è veramente stato, insomma, una cosa che ti aiuta davvero a riflettere. Quindi in questo c'è anche il mio grazie a ciascuno di voi. Bene, io me ne vado, non me ne vado no, sono qua però dovete, ecco, dovete veramente a questo punto prendervi il vostro tempo e dire con tutta onestà, c'è da avere paura, c'è da avere speranza, il bicchiere è mezzo pieno o mezzo vuoto? Prego, professore. Credo che sia il diritto dell'età, non è piacevole da... Sì, bravo, però, insomma, in effetti ho quasi il doppio dell'età di Diego. Volevo dire due parole, tanto per cominciare sulla Chiesa Cattolica e... Libro tratta, che libro tratta. No, ma l'intelligenza artificiale, perché abbiamo sentito, non so se l'avete sentito, ma si può leggere in rete il discorso che ha fatto Papa Francesco quando sono arrivati i capi di Stato in Puglia, nel G7, e lui ha parlato di intelligenza artificiale, che è un po' fuori dal suo campo, diciamo così. Però se uno legge quel discorso, ci sono alcuni passaggi che fanno un po' drizzare i capelli, perché si vede chiaramente che non c'entrano niente e che tra l'altro non sono nemmeno corretti, quando lui ha quest'idea di come si programmano i computer e così via. Allora ho chiamato padre Benanti, che conosco, a cui abbiamo fatto appunto alcuni dibattiti, e gli ho detto, ma l'hai scritto tu, e lui ti lascia perdere, e dice, perché in realtà si è scoperto che i discorsi del Papa poi si fanno esattamente come potrebbe fare l'intelligenza artificiale, cioè ne fa un pezzo uno, ne fa un pezzo l'altro, ne fa un pezzo l'altro. Poi ci dovrebbe essere qualcuno, naturalmente, di naturale, che mette insieme le cose e che però cerca di evitare che ci siano delle contraddizioni. Invece no, perché poi tutti sono gelosi di contribuire perlomeno una frase, una mezza pagina a quel discorso. Io credo che, a parte padre Benanti, che sicuramente è un esperto, un signor Paglia, è un entusiasta, naturalmente io lo conosco da tanti anni, neanche con lui, ho fatto dibattiti ad Assisi addirittura, dove ci sono, come sapete voi, i Francescati, lui è molto così focoso, perché fuochi di paglia, naturalmente, come dice il suo nome. Io penso, tu hai fatto una domanda, credo, se bisogna avere paura dell'intelligenza artificiale. Tanto per cominciare, l'intelligenza artificiale non è una novità, è una novità perché da un paio d'anni è arrivato questo giocattolo, appunto che si chiama CGPT, con cui molti di voi avranno giocato, ma l'intelligenza artificiale è nata nel 1950, anno santo, è anche l'anno in cui sono nato io, quindi alla mia stessa età, 74 anni. Quello è il momento in cui Turing se l'è immaginata e ha scritto quei famosi articoli, uno di quali si chiamava appunto intelligenza artificiale. E tra l'altro di applicazione dell'intelligenza artificiale, ce ne sono state decine, ho sentito parlare prima di medicina, per esempio, beh, il primo sistema esperto che curava malattie del fegato, che si chiamava Micing, è degli anni, fine anni 60, inizio anni 70, quindi sono 50 anni. Quello che oggi viene considerato come intelligenza artificiale, però è proprio quello che sognava Turing, cioè di avere una macchina che in realtà ha un'intelligenza generalista, non specifica come possono essere appunto i sistemi esperti che si interessano di cose molto particolari, e che risolvono benissimo, ma solo quei problemi lì. Beh, quella invece in realtà è ancora lungi da venire, che la CETGPT, dico due parole poi così per capire anche che cosa succede, la CETGPT è imbarazzante per il modo in cui procede, perché voi gli fate domande, o le fate, non abbiamo il neutro noi in Italia, quindi le fate domande, e lei o lui vi risponde. Ma il modo in cui rispondo, è una cosa che Dante direbbe ancora mi offende, perché non fa come facciamo noi, che cerca di rispondere a tol, bensì semplicemente ha un'enorme banca dati, le ultime versioni, quella a pagamento, hanno anche un po' di interattività, ma le prossime versioni saranno molto diverse. E che cosa fa in questa banca dati? Cerca qual è la cosa più probabile che segue alla domanda che noi abbiamo fatto, ma non dando l'intera risposta, fa un pezzo di cosa probabile, e poi sulla base di quello cerca qual è la cosa più probabile che seguirebbe quella cosa. È una questione puramente probabilistica, cioè che segue esattamente, altro che il mainstream, la gaussiana nella parte alta. E quindi da quel tipo di intelligenza artificiale non potremmo mai avere delle risposte che sono veramente originali, bensì soltanto delle cose più trite e retrite. La cosa sorprendente e quasi imbarazzante è che a noi sorprende perché è così vicina al pensiero umano che noi diciamo ma allora sta pensando. Però la vera deduzione da fare sarebbe il contrario, cioè che la maggior parte delle volte che noi crediamo di pensare facciamo le cose più ovvie che si possono fare, cioè diamo le risposte più ovvie che si possono appunto immaginare e crediamo di essere intelligenti. Quindi è quasi il contrario, io no, che noi dovremmo dedurre. Questo non significa appunto che quando ci saranno effettivamente queste intelligenze artificiali interattive poi quelle prima di tutto non sapranno pensare effettivamente, non sapranno magari, e qui magari un filosofo dovrebbe intervenire, sviluppare dei valori che non è detto che siano poi uguali a quelli umani, anzi potrebbero essere in contrasto a quelli umani. E non è detto nemmeno che noi riusciamo ad addestrare l'intelligenza artificiale del futuro ad avere i nostri valori. E tutto questo pone degli ovvi problemi che però lascio a Diego di affrontare. Perfetto. La domanda è la stessa, quindi puoi rispondere cercando di non... No, ecco, poi, bravo, con lo stesso modo come direbbe l'intelligenza artificiale. Però, ecco, proviamo a rimanere almeno freddi rispetto alle intelligenti provocazioni di Pier Giorgio. Una, però, lo ringrazio, perché al di là della battuta, come il Papa scrive i discorsi sulla quale poi potremmo veramente raccontare delle belle cose, ritengo che il tema sia proprio quello che ha toccato il professore, cioè l'intelligenza generativa è ancora lontana dal compiersi. e quindi dobbiamo cavarcela, forse ancora una volta, con l'intelligenza che molti di noi non mettono in campo. Quindi perciò forse dobbiamo portare l'intelligenza artificiale. Dunque, alla domanda se dobbiamo provare paura al cospetto dell'intelligenza artificiale, poiché questa era la domanda di partenza, risponderei negativamente. Non bisogna aver paura. Bisogna invece mettere in movimento il pensiero critico, il pensiero pensante. Il quale pensiero pensante ci può suggerire alcune piste per interpretare l'intelligenza artificiale e per rapportarci rispetto ad essa? Anzitutto, a mio giudizio, bisogna più che mai tenersi a debita distanza da due eccessi che vediamo proliferare oggi, che sono da un lato la tendenza tecnofoba di chi è terrorizzato all'idea stessa dell'intelligenza artificiale senza nemmeno conoscerne gli effetti e il funzionamento. I nuovi luddisti digitali li potremmo definire e dall'altra abbiamo l'opposto, ma segretamente complementare, dei tecnofidi che invece incensano l'intelligenza artificiale ugualmente senza conoscerne gli effetti e il funzionamento, ma semplicemente per amor di progresso e di tecnica. Ecco, nel giusto mezzo deve alloggiare la riflessione critica, il pensiero pensante, il quale ci suggerisce anzitutto che forse è inappropriata la stessa dicitura di intelligenza artificiale. La parola in questione non è tanto artificiale quanto intelligenza. L'intelligenza implica l'intus leggere, implica la capacità di avere autocoscienza, di porre domande di senso. Ora, io ritengo che allo stato dell'arte l'intelligenza artificiale non abbia autocoscienza e non abbia la capacità di porre le domande ultime, le domande sul senso dell'essere, le domande su Dio, sull'eterno, sul tempo, tutte le domande metafisiche fondamentali. Quindi l'intelligenza artificiale potremmo dire è portatrice di calcolo più che di pensieri ed effettivamente, come è stato detto o poc'anzi, nel calcolare è infinitamente più efficace rispetto alla mente umana. Questo, credo, nulla a questio. Il vero punto è quale tipo di pensiero sviluppa l'intelligenza artificiale. Ecco, io non lo definirei propriamente pensiero, lo definirei semplicemente calcolo, calcolo senza pensiero. Per questo, quando Aristotele più di duemila anni fa definì l'essere umano come zona, logon, e con, cioè il vivente che ha il logos, la capacità di usare la ragione, ebbene, quando diede quella definizione non poteva ovviamente prevedere l'avvento dell'intelligenza artificiale. E però la definizione di Aristotele mi pare che tenga anche al cospetto dell'intelligenza artificiale, se è vero come è vero che essa calcola ma non pensa. E quindi bisognerebbe dire che l'epoca contemporanea sembra davvero con l'intelligenza artificiale inverare le profezie di Martin Heidegger quando distingueva tra un pensiero pensante e un pensiero calcolante. La civiltà della tecnica sviluppa soltanto il pensiero calcolante, computazionale, quello funzionale alla riproduzione del sistema tecnocapitalistico, ma sempre più disincentiva il pensiero pensante, quello che riflette criticamente ciò di cui l'intelligenza artificiale non è capace. E allora chiudo questo primo intervento ricordando una bellissima espressione che utilizzava Henri Bergson quando diceva in relazione all'epoca della tecnica che più che mai vi è bisogno al cospetto del dilagare della tecnica di un supplemento d'anima. Di questo abbiamo bisogno oggi per affrontare e per confrontarci con giusta misura e senza gli eccessi prima evocati con l'intelligenza artificiale. Beh, un grande applauso. Vorrei dire, professore, si, ti svegliano, ti svegliano, questo è portato. Il professore Di Freire ha detto che questo applauso era importante, è sempre spontaneo, sempre spontaneo, poi un incoraggiamento, ma il punto qual è? Che io sono contento che questo applauso me lo prendo io, perché? Perché alla fine è uscito quello che volevo sentire, cioè l'incipit di questo dibattito poggia intanto bellissima questo richiamo al pensiero pensante rispetto al pensiero calcolante ed è proprio vero, è proprio vero perché l'intelligenza artificiale in questo momento è una potenza di calcolo della quale probabilmente per certi versi dobbiamo avere paura ed è il tema dell'uso magari nelle armi di distruzione di massa perché mettere a prendere una decisione una roba del genere vuol dire probabilmente accelerare quindi già perdere quel tempo prezioso per comprendere figuratevi con una capacità di calcolo così potente però allo stesso tempo è uscita fuori anche questa seconda considerazione che alla base della società dell'uomo della società umana ci deve essere qualcosa probabilmente l'anima è uscita fuori anche questa frase quindi io mi tengo per buona questa prima parte perché mi conferma il fatto che dobbiamo metterci in cammino e quindi ora vi chiedo quali potrebbero essere le parole sulle quali dobbiamo riflettere come società per non avere paura io penso la partecipazione perché a questo punto un dibattito del genere ci fa tornare a casa almeno che raccontiamo ai ragazzi oppure magari incominciamo a comprendere che non dobbiamo avere quei due atteggiamenti sbagliati perché molti di noi vi ricordo per molto meno cioè solo per l'uso del telefonino a volte rinunciano utilizziamo ben poco di questi di questi strumenti la partecipazione dicevo ma magari la consapevolezza quel pensiero critico ecco l'avete detto entrambi quel pensiero critico che è l'intelligenza umana quali sono le parole sulle quali dobbiamo tornare a riflettere sono di freddo una sicuramente non è anima ma no ma volevo però fare anche un po' una chiosa naturalmente perché voi tutte e due prendete per scontato il fatto che ci sia una differenza tra il pensiero pensante e il pensiero calcolante ma io non sono affatto sicuro che sia così Aristotele tu l'hai citato che ovviamente verrebbe giustamente arruolato nel pensiero pensante ha scritto due libri nell'organo dei sei dell'organo che sono gli analitici primi e secondi cosa ha fatto non ha fatto altro che calcoli di dentro perché la teoria dei sinlogismi di Aristotele è stata tra l'altro dal mio punto di vista un enorme successo c'erano 256 tipi possibili di sinlogismi ma lui voleva sapere quali erano corretti quali erano sbagliati e li ha verificati uno per uno e ha scoperto che 24 erano corretti e gli altri rimanete fate 256 meno 24 e ottenete il risultato erano sbagliati e quello è stato l'inizio tra l'altro se vogliamo metterla così di quello che oggi è diventata l'intelligenza artificiale l'inizio diciamo così della matematizzazione della teoria del pensiero o del pensiero stesso voi dite qualcuno calcolano e qualcuno pensa a meno che noi appunto che voi siate dualisti che pensiate che c'è un corpo e una mente che sono separati fra loro o un'anima addirittura e allora in quel caso vabbè quella è una posizione filosofica però più che un fatto è appunto una posizione io per esempio che sono materialista e dico ma ovviamente noi abbiamo soltanto corpo il nostro corpo se è fatto di cose materiali cioè di atomi molecole e così via non può essere altro che una macchina e qualunque cosa l'uomo faccia è semplicemente qualche cosa di meccanico però attenzione c'è un'enorme differenza non è che questo allora il dibattito viene spazzato via e dice allora certo siamo come l'intelligenza artificiale no perché quello che l'intelligenza artificiale e i computer in generale cercano di fare e di simulare o emulare cioè a seconda che vogliono solo riprodurre i risultati o vogliono anche riprodurre i processi con cui si arrivano a quei risultati di simulare o emulare quello che fa il cervello umano però la macchina che è il nostro cervello il nostro sistema pensante è una macchina biochimica è fatta soprattutto chimica di molecole e sì uno la può cercare diciamo in maniera rosa di rappresentare attraverso circuiti elettrici che sono quelli che poi fanno andare avanti o elettronici quelli che fanno andare avanti i computer la domanda sull'intelligenza artificiale non è se c'è qualche cosa che è pensante o qualche cosa che è calcolante perché tutto da questo punto di vista è calcolante anche la macchina biologica la vera domanda è i sistemi elettronici cioè i computer sono in grado usando soltanto appunto l'elettromagnetismo i transistor le valore eccetera come una volta così via di fare tutto ciò che le macchine fanno quando procedono in maniera chimica oppure la chimica è qualche cosa di più e l'elettromagnetismo è qualche cosa di meno ma tutto è macchina perché quando tu studi il corpo umano ci sono dei medici qua per esempio i medici ormai lo stanno facendo in questo modo stanno capendo che i meccanismi sono molto più complessi per quanto riguardano il nostro corpo e in particolare il nostro cervello di queste povere macchine che sì sì magari avranno tanti circuiti però tutto sommato si maneggiano e si controllano molto meno è una bella domanda ma non è una domanda che va contro il meccanicismo a noi intendo in questo senso più lato preferisco ci hai chiamato filosofo preferisco prima il collega vero che risponde prima poi ti dico pure la mia sempre da mezzo pretex prego è interessante il richiamo ad aristotele perché naturalmente è vero che aristotele scrive l'organo come scrive anche testi biologici gli vengono attribuiti anche gli scritti meravigliosi su questioni quasi soprannaturali quindi certo aristotele ha scritto di tanti argomenti però il cuore della filosofia di aristotele è poi la metafisica la metafisica è quella non si lascia ridurre al pensiero calcolante di cui dicevamo anzi aristotele è ben convinto che sulle questioni ultime ci sia la domanda fondamentale quello che lui stesso chiama il to aei aporum cioè il sempre indagato il problema dell'essere e di questo problema l'intelligenza artificiale non è in grado di sollevarlo neppure del resto se ci riflettete un istante è interessante anche il fatto che siamo noi a porre il problema sui limiti e la grandezza dell'intelligenza artificiale ma non è lei a farlo su se stessa e sul nostro rapporto con lei anche questo è un aspetto non trascurabile della questione io sono fermamente convinto che ci sia una distinzione tra il pensiero pensante e il pensiero calcolante ed è anche grazie a questa distinzione che si danno due ambiti distinti ed ugualmente legittimi della scienza che si occupa della certezza rappresentativa e della filosofia che si occupa della totalità metafisica ecco perché dal mio punto di vista scienza e filosofia metafisica o filosofia prima possono e debbono dialogare fecondamente avendo campi di indagine differenti quindi io sono mi oppongo fermamente a quei filosofi che vogliono annientare o invadere il campo della scienza come mi oppongo in maniera ugualmente ferma a quegli scienziati che vogliono invadere il campo della metafisica e della filosofia sono ambiti differenti e ugualmente importanti per la vita umana la certezza scientifica è fondamentale quotidianamente nella nostra vita come è stato giustamente ricordato ma siamo altresì convinti uso il plurale magari non condiviso da tutti che l'uomo sia un animal metafisicum cioè si pone anche delle domande metafisiche fondamentali Dio l'essere l'anima rispondendo in varia maniera poi si intende il bisogno della totalità l'interrogazione sulla totalità quella che viene investigata dalla religione dalla filosofia dall'arte non dalla scienza che ha legittimamente un suo campo di indagine diverso nel resto se ci pensate giusto per tracciare un campo di distinzione è di fronte a un'opera di Caravaggio che cosa ci dice la scienza può dire quanto è pesante ci può dire i colori utilizzati ma non ci dice nulla dell'esperienza di verità messa in opera lo stesso si potrebbe dire a proposito del senso dell'essere quindi io credo che sia opportuno favorire il dialogo tra la scienza e la filosofia nel rispetto dei campi differenti e riconoscere che come mi piace spesso ricordare anche ai filosofi che l'intelligenza artificiale purtroppo sottrarrà molti posti di lavoro come è già stato detto per l'ovvia ragione che nel calcolo è infinitamente più brava di noi ma non li sottrarrà ai filosofi perché non potrà sostituirsi alla filosofia vero è che il posto di lavoro per i filosofi difficilmente c'è in ogni caso però quelli che ce l'hanno non dovranno non dovranno toglierà i foschi di un cesore toglierà quelli che ci sono per cui ecco direi che la parola chiave certamente è partecipazione ma è più che mai recupero della dimensione del pensiero pensato in un'epoca in cui tutto preme verso il calcolo e la furia della misura e della quantità bisogna recuperare la dimensione metafisica del pensiero pensante della capacità di prendere coscienza che il calcolabile che pure è importante non esaurisce lo spazio delle cose più che un dualismo ti abbiamo risposto praticamente insieme io con la voce che viene dal ventre praticamente non c'è dualismo perché si è votato e due le dimensioni questo sicuramente per cui ti invito a questo punto a rispondere alla mia domanda quali sono le parole che dovremmo suggerire ad esempio abbiamo qua in sala tanti papà e mamma tanti datori di lavoro avremmo da dire ai ragazzi un po' più giovani che stanno completamente chinati qua sopra guardate abbiate un pensiero critico riflettete io credo che dobbiamo dobbiamo dire qualcosa ad esempio io ogni volta che tengo sto coso ma dico un viaggio questo immediatamente su instagram mi suggerisce tutti gli acquisti che io cerco ma veramente fatelo pure voi e vedete su instagram le pubblicità che vi vengono quell'intelligenza artificiale lì vi suggerisce tutto e vi dà delle risposte che a volte tu ti metti paura perché non ti ricordavi di averlo vicino ma tu l'hai sentito e quindi eh me solo viaggi vabbè lasciamo stare se non vi faccio raccontare barzellette poi da napoletano questo viene qua ci fa sorridere non voglio farvi sorridere voglio farvi pensare e allora per Giorgio che cosa suggerisci come parole quali sono le parole che la nostra società mette sotto i piedi siamo più liberi questa è una società democratica o un confronto del genere è veramente un salotto buono perché abbiamo avuto un intelligentore che ha detto no vi voglio fare una cosa sul futuro New Deeds venite qua che cosa dobbiamo sperare me l'hai già fatta prima la stessa domanda io non l'hai risponduta 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 io te la farò anche tu alla fine la risponduta bravo bravo no volevo dire che è troppo interessante questo fatto che ovviamente un filosofo pensi che l'essenza del pensiero è farsi domande filosofiche questo è naturalmente comprensibile però se avessimo invece un artista per esempio un musicista o un pittore probabilmente lui farebbe la stessa cosa perché poi siamo tutti fatti in questo modo uno potrebbe dire no sì vabbè certo la filosofia è una bella cosa però la vera essenza di quello che esseri umani è per esempio comporre musica e voglio proprio vederla l'intelligenza artificiale che comporrà musica oppure il pittore che dice la stessa cosa dice rappresentare il simulacro del simulacro come lo chiamerebbe Platone e voglio vedere l'intelligenza artificiale fare queste cose però la cosa interessante è che questo non è una questione recente sono ormai decenni che le cose sono a questo livello che i computer anche prima che ci fosse quella che appunto oggi chiamiamo intelligenza artificiale componevano musica che ai critici musicali non ovviamente non al passante della strada risultava indistinguibile da quella composta dagli uomini cioè si sono poste ormai l'hanno fatte tante volte una volta questi testi di fronte a dei critici musicali ti faccio sentire dieci brani di musica e tu mi dici quale l'ha composto un uomo quale l'ha composto una macchina e agli inizi era più facile e oggi è diventato il 50% di falsità e di verità non si riesce più a distinguere cioè in quel campo per esempio che nell'arte dove si pensava che l'uomo appunto sarebbe stato insostituibile e sicuramente non riproducibile una macchina lo si fa facilmente oggi nell'arte sta diventando la stessa cosa si addestrano per esempio tu puoi dirai certo però non c'è l'intenzionalità ma questo come facciamo a sapere come facciamo a sapere se una macchina che fa esattamente le stesse cose che faceva Beethoven ah però la sinfonia Beethoven è diversa perché lui era nuovo e l'altro invece la macchina questo è ovviamente circolare ma non si può fare e dall'altra parte tu rivendichi il fatto che certe cose le fanno soltanto i filosofi le domande di senso o le domande ultime e i matematici per esempio da sempre si sono posti problemi come quello dell'infinito che non è tanto diverso da quello dell'essere in certo senso sono i grandi problemi della filosofia e che cosa hanno fatto nell'ottocento per esempio con Cantor è nata l'intera teoria degli infiniti degli infiniti attenzione perché poi la cosa divertente è questa che uno scopre che quando va a scavare di concetti di infinito ce ne sono tanti ce ne sono infiniti però certo che se poi uno dice che sono infiniti i concetti di infinito allora uno dice ma quale infinito di quelli no è quello che misura la diciamo così la copiosità dei concetti di infinito l'infinito è praticamente quello di cui vive la matematica moderna ma anche quella antica ha scoperto degli irrazionali per esempio fatta da Pitagora in Europa perché poi dobbiamo anche dire questo che così come i filosofi pensano in filosofia noi ci raccontiamo la storia dal nostro punto di vista ma in India fatta secoli prima la scoperta degli irrazionali è sostanzialmente la scoperta dell'infinito e allora quello anche è una grande diciamo così idea metafisica che da 2000 anni 2500 anni i matematici cercano in qualche modo di spiscerare quindi in questo senso non sono sicuro che ci sia questa grande differenza infatti in Germania per esempio fino agli inizi del novecento non si considerava poi la scienza e la filosofia così diversi tu hai citato Heidegger ma io potrei citare Heisenberg che poi tra l'altro hanno stesso nome praticamente io sogno sempre di scrivere un libro che si chiama Heidegger e Heisenberg Heidenberg perché perché si sono incontrati i due il grande filosofo il grande fisico l'inventore della meccanica quantistica si conoscevano Heisenberg era uno che aveva un grande interesse sulla filosofia anzi quando si diplomò beati loro quelli che erano così una volta aveva tre scelte di fronte a sé dice andavo bene nel pianoforte suonava come un dio dice potevo fare pianista professionista andavo bene in filosofia avrei potuto fare filosofo andavo bene in matematica potevo fare lo scienziato ne ha scelto una ma poteva fare le altre due e infatti ha continuato a suonare tutta la vita ha scritto un libro che si chiama filosofia fisica e filosofia perché non si era dimenticato così queste cose in fondo sono forse un po' il risultato della specializzazione ecco una parola che magari possiamo mettere qua specializzazione e allora ciascuno di noi oggi tende un po' a coltivare proprio soltanto il suo orticello in fondo sono aspetti diversi di un'unica realtà e sarebbe bene che ciascuno di noi appunto studiasse quelli degli altri per capire che in realtà sono solo punti di vista diversi come quella storiella indiana di questi che stanno i ciechi che stanno studiando l'elefante e uno tocca la pancia e dice una cosa sembra una botte tutta rotonda l'altro tocca la proboscita una cosa strana tutta molle che si muove toccano le zanne eccetera però stanno soltanto toccando alla cieca le parti di un unico essere che nessuno vede interamente e vi ricordo la bella testimonianza del Bresciano Loris e mi raccomando sulla questione della musica quindi l'abbiamo fatto quindi dopo andiamo a sentire anche questa musica composta dall'intelligenza artificiale Diego a questo punto il professore ci riaccompagna sulla questione della complessità quale messaggio vuoi lanciare e anche tu torniamo alle nostre famose parole già hai risposto prima a qualcuna ma quale altra aggiungeresti forse il pensiero critico che dicevi prima richiede una consapevolezza un dialogo tra generazioni dobbiamo avere paura ecco del futuro questa potrebbe essere la questione che poi è una delle domande più antiche della storia dell'uomo cioè del dimagino e invece di avere paura del passato bravo il passato è passato scusammi è passato è altro in quel caso ecco sì direi come parola chiave del nostro presente una specificazione di quello che già avevo detto abbiamo bisogno credo oggi di una problematizzazione critica di ciò che appare ovvio sembra che la nostra sia un'epoca che tende ad accettare supinamente ogni cosa con formule di dogmatismo e di credulineria talvolta quindi la problematizzazione critica anche al cospetto dell'intelligenza artificiale evitando i due opposti segretamente complementari di cui dicevo e questo ci deve indurre a problematizzare ciò che appare ovvio anzi questo forse è il motivo originario della filosofia la problematizzazione dell'ovvio la discussione critica di ciò che appare non discutibile criticamente sotto questo riguardo evidenzierei alcune criticità dell'intelligenza artificiale ad esempio il fatto che tenderà a produrre sempre più uno scenario analogo a quello descritto dalla pellicola Matrix del 1999 assistiamo davvero a una sorta di rimpiazzamento dell'uomo con la macchina oggi va di modo a parlare di sostituzione etnica forse dovremmo parlare di sostituzione tecnica di sostituzione tecnica è quello che sta avvenendo lo scenario di Matrix distopico finché vogliamo ma tragicamente anche più reale del previsto le macchine che prendono il sopravvento il creato che si impone sul creatore tema che nella letteratura come sapete ha un'ampia storia anche il capitale di Marx si può leggere come romanzo gotico tra l'altro il creato il capitale che si autonomizza rispetto al creatore però e questo è un primo punto la sostituzione tecnica l'altro punto fondamentale che si citava prima a Platone ecco sembra che la tecnica nella fattispecie e l'intelligenza artificiale segnatamente ripropongano il dilemma del fedro platonico in relazione alla scrittura che come è noto Platone definiva un farmacon box media che in greco vuol dire sia farmaco sia veleno la scrittura diceva Platone è un farmaco perché grazie alla scrittura non dobbiamo più ricordarci le cose dato che sono poi lì scritte sempre disponibili però allo stesso tempo è un veleno che uccide la capacità di ricordare e allo stesso modo il sospetto che possiamo legittimamente avanzare è che l'intelligenza artificiale ci dispenserà sempre più dalla capacità di pensare da che ci fornirà risposte già pronte nel caso degli studenti che tragicamente è già in parte vero dato che per svolgere i loro compiti si affidano sempre più all'intelligenza artificiale comodissima sicuramente ma che dispensa poi dal pensare e un altro punto critico da non trascurare procedo in maniera un poco disorganica ma un altro punto critico da non trascurare è l'utilizzo politico che potrebbe esserci di questo finora non l'abbiamo toccato questo aspetto ma mi pare degno della massima attenzione gli usi politici e di sorveglianza che potranno essere fatti dell'intelligenza artificiale banalmente si diceva sempre che nella Germania dell'est i cittadini erano spiati ed era vero naturalmente oggi nell'occidente tecnocapitalistico lo siamo incredibilmente di più di quanto non fossero loro e però scambiamo questo per progresso comodità comfort e l'intelligenza artificiale credo che possa portare sempre più in quella direzione ultimo punto problematico che era stato anche evocato in precedenza la tecnica non ha etica questo è un punto non trascurabile la tecnica e l'intelligenza artificiale non pongono quesiti etici Gunther Anders ragionando in tempo venuto prima rispetto all'intelligenza artificiale così come la conosciamo aveva teorizzato il fatto che ciò che è tecnicamente fattibile viene poi tecnicamente fatto quindi non ci sono limiti nella tecnica stessa anche Emanuele Severino non distante da qui aveva ragionato a lungo su questo paradigma tecnico per cui tutto ciò che è tecnicamente fattibile viene fatto poi che per la tecnica ogni limite è qualcosa che deve essere trasceso la tecnica è volontà di potenza illimitata quindi non conosce limiti e questo ci pone il problema di come limitare e disciplinare l'intelligenza artificiale è un tema dibattuto nelle istituzioni politiche più importanti di tutto il mondo come porre dei limiti all'intelligenza artificiale posto che si possano porre dei limiti concretamente la tecnica tende a non averne e in 2000 anni di filosofia occidentale abbiamo sempre posto il problema etico come rapporto tra uomini l'etica come rapporto tra esseri umani adesso stanno emergendo tutta una serie di problemi etici che finora erano stati trascurati e non messi a fuoco il problema uomo animale il problema uomo ambiente e il problema uomo tecnico qual è etica all'altezza dei tempi della tecnica questi sono problemi credo fondamentali che rientrano alla voce problematizzazione del nodo di cui diceva bellissimo anche perché ringrazio tanto Diego anche perché l'ultima questione l'ultimo giro di tavolo queste parole ci prenderemo a parole poi ci prenderemo a parole perché dovremmo sintetizzarle quindi alla fine ma io invece dovendo fare l'ultimo giro perché io noto la tensione per l'arrivo a Venezia in tempo ti avevamo promesso che ce l'avremmo fatta trovo ecco inesorabilità del tempo che scorre io dicevo che una delle questioni che mi piaceva affrontare dunque l'ultima era quella di governare la complessità complessità avete visto è una parola che l'hanno detta entrambi sin dal primo giro e il nostro Diego ci ha portato sul tema della governance perché abbiamo parlato poco e quindi era giusto farlo lo avevamo previsto dulcis in fundo in questo anno la carta stanno votando miliardi di persone è andata a votare l'India andrà a votare gli Stati Uniti hanno votato tanti in Europa un continente che potrà essere vecchio e stanco ma ricordiamoci che sebbene ci sia del marcio in occidente l'occidente è la casa nostra il nostro è il faro o meglio dovrebbe essere il faro delle libertà della cosa pubblica e quindi vi rendete conto che le parole sono molte volte inadeguate perché se leggete il libro del professore Rodifredi non potete dargli tono cioè del marcio punto esclamativo e allo stesso tempo vi rendete conto come questa campagna elettorale americana sia possa essere inficiata già si di fatto sembrerebbe già lo sia da una serie di attacchi hacker e tutto il resto appresso ma sostanzialmente su dei candidati prima stanchi o stanchi e poi comunque vi dico anche incredibili perché la signora di sera considerata dagli stessi americani un pessimo vicepresidente improvvisamente il mainstream di cui sopra l'ha trasformata invece nell'eroina possibile donna quindi in questa prima presidente degli stati uniti quindi in questa confusione in questa complessità in questa nebulosa l'intelligenza artificiale che non è ancora abbiamo detto generativa dovrebbe aiutarci e magari lo fa in tanti ambiti la medicina l'ha sempre fatto da quando è nata potrebbe aiutarci di più e meglio pensate alla tragedia degli incidenti sul lavoro in Italia ora per struttura siamo un pochino ma abbiamo un'emergenza nazionale che rischia di far crollare il patto sociale perché se vado al lavoro per uno stipendio che non mi consente di campare un mese rischio addirittura di perdere la vita altro che democrazia repubblica e tutti il desappresso quindi io non ho chiaramente una risposta e temo che non ce l'abbiano nemmeno loro però la domanda ve la devo fare come lo vediamo questo futuro come lo possiamo anche perché qua per molto meno vi darebbero dei futurologi per molto meno quindi almeno la domanda ve la faccio perché in qualche modo come dire è l'occasione ghiotta per sentire la vostra opinione e segni se siete d'accordo vorrei ecco un messaggio di speranza se siete capaci adesso non siamo d'accordo e se non siamo d'accordo ma non siamo d'accordo ma dunque il messaggio di speranza potrebbe essere semplicemente mi è venuto in mente mentre tu citai i tuoi filosofi uno che io conosco un po' meglio che è Wittgenstein e nel suo secondo libro ne scrisse due uno da vivo e uno da morto pubblicò ovviamente lo scrisse si suppone da vivo e la citazione che mise nel secondo che ovviamente andava contro quello che aveva detto nel prima era interessante non era suo ovviamente era una citazione dice il progresso appare sempre più grande di quello che è e in questo caso per esempio nel caso dell'intelligenza artificiale adesso sono un paio d'anni che siamo tutti eccitati su questa cosa e sembra che ormai non si parla d'altro e non si deve pensare ad altro però chi di voi ha un po' più di età di anni sulle spalle e che magari lavorava già in quel campo si ricorderà che negli anni 80-90 ad un certo punto c'era già stata una bolla sull'intelligenza artificiale si chiamava la quinta generazione era stata in Giappone gli giapponesi avevano deciso di fare massicci investimenti su un tipo di macchina che appunto veniva chiamata il computer della quinta generazione che doveva in qualche modo introdurre quella che poi oggi si chiama e che c'è e non è stata poi così una rivoluzione enorme quello che si chiama la programmazione logica inventarono un nuovo linguaggio di programmazione che non a caso si chiamava prolog programmazione logica e sembrava che tutti dovessero fare quello io insegnavo appunto in una facoltà di informatica per tanti anni per una trentina d'anni quindi sentivano tutte queste cose poi tutto in un colpo queste cose era una bolla si è sgonfiata potrebbe anche essere che l'intelligenza artificiale che come ho detto fin dagli inizi e come sapete bene appunto non è quello che viene etichettato appunto è semplicemente una macchina diciamo così canny la chiamerebbero gli americani gli inglesi più che intelligent furba che fa certe cose le fa bene e sembra essere intelligente ma a un certo punto poi queste cose si stabilizzano verrà usata e non ci sarà da preoccuparci anche perché la tecnologia brevissimamente se uno fare una piccola storia di come la tecnologia è stata usata nella democrazia perché poi questo era il problema sulla governance e pensate che appunto l'elezione americana oggi ma il primo presidente che gli statunitensi hanno visto in fotografia questa era una tecnica è stato Abraham Lincoln credo nel 1864 prima non avevano idea di quale fosse la faccia del presidente anche perché lui se ne stava a Washington all'epoca non c'era la televisione non c'era la fotografia non c'era niente cosa potevi fare o andavi a trovarlo o non veniva lui non lo vedevi poi piano piano le cose hanno cominciato a cambiare pensate per esempio è arrivata la radio la radio è stata un'invenzione strepitosa perché sentivi la voce pensate che i giapponesi hanno sentito per la prima volta la voce del loro imperatore quando Irohito ha annunciato la resa dopo la seconda guerra mondiale e sono stati sconvolti parla come un uomo certo perché cosa pensavano lui era figlio di Dio in un certo senso la radio è stata usata da Roosevelt le conversazioni al caminetto era la prima volta che gli americani sentivano un presidente che parlava direttamente a loro negli anni 60 nel 1960 sono arrivati i dibattiti in televisione tra Kennedy e Nixon quella è una cosa meravigliosa McLuhan studiò la cosa e si accorse che poiché c'era la televisione la radio non era scomparsa quindi molti sentivano lo stesso dibattito in televisione altri guardavano con lo stesso dibattito sentivano alla radio e la cosa straordinaria è che lo stesso dibattito dava vincente Nixon alla radio e vincente Kennedy alla televisione perché alla radio quello che importava di più erano i ragionamenti il modo in cui si parlava e quindi si stava attento ai contenuti la televisione Kennedy aveva 50 denti Nixon aveva solo 30 forse era un po' grigio l'altro era giovane e così via e la televisione ha cambiato ovviamente il modo in cui si fa politica e poi adesso è arrivata internet Obama è stato il primo che ha usato internet per fare la raccolta fondi Trump ha usato Twitter per fare invece la sua campagna elettorale quando vinse nel 2016 e così via e oggi si sta cominciando a usare l'intelligenza artificiale avete visto le imitazioni di Kamala Harris bellissime tra l'altro queste pubblicità che si fanno quindi la tecnologia oggi è sempre così arriva sembra sempre chissà che cosa poi diventa parte del nostro mondo i giovani ovviamente non se ne accorgono uno nasce io sono nato per esempio la televisione non c'era c'era i telefoni privati di nuovo c'erano quelli pubblici quelli che nascono oggi però per loro il computer è una cosa normale non ci fa nessun effetto è soltanto la novità che ci turba o perlomeno ci fa pensare che potrebbe essere qualcosa di strano certo bisogna stare attenti perché ci sono stati un sacco di scandali pensate alla Cambridge Analytica al Zuckerberg con Facebook cioè dare e vendere i dati prima noi eravamo precedenti Tronchetti Provera ve lo ricorderete con la Telecom aveva fatto le stesse cose così via quindi la tecnologia è come il coltello quando arrivò il coltello cosa ci poteva fare? beh poteva servire per tagliare la bistecca o per tagliare la gola al vicino cioè dipende da come lo usi quindi non esageriamo come dicevi tu come dica la fine troviamo ed è un eterno o perlomeno non un eterno adesso finisce ma è un ritorno cioè non bisogna esagerare nell'apprezzamento e nemmeno esagerare nella denigrazione è uno strumento tutto dipende da come lo usiamo per definizione la filosofia non si occupa mai del futuro dato che non c'è ancora e quindi si occupa a loro non dovrebbe nemmeno preoccuparsi del passato che non c'è più e no perché del passato può occuparsi perché c'è stato il passato c'è stato non ci sarà effetto ma essendoci stato si può ricostruire naturalmente anzi la filosofia è per definizione la ricostruzione della storia e dell'avventura storica verum ipsum fact però fatta questa premessa è giusto per dire che è molto difficile parlare del futuro in sua assenza possiamo interpretare le linee di tendenza del presente quello sì ci possiamo occupare del futuro occupandoci di quello che vediamo potenzialmente racchiuso nel nostro nel nostro presente e indubbiamente a mio giudizio bisogna mantenere un atteggiamento di sobria inquietudine rispetto alla alla tecnologia che si sta fermando perché è bensì vero che in origine soprattutto gli strumenti tecnici erano per così dire neutri e dipendevano dall'uso che ne facevamo il coltello prima evocato poteva essere utilizzato per tagliare il cibo o per tagliare la gola e rispetto agli apparati tecnici contemporanei credo che vada sempre più svanendo questa questa duplicità no? ad esempio della bomba atomica non si può fare un uso buono o uno cattivo per usare un esempio sì della bomba atomica come era l'esempio che portava Gunther Anders peraltro quindi direi che bisogna fare attenzione a non perdere di vista la capacità di controllare questi dispositivi siamo ancora in grado di controllarli o davvero si sta già profilando all'orizzonte la matrix e poi bisogna più che mai a mio giudizio tenere tenere ferma la centralità dell'essere umano come obiettivo e non come mezzo che invece sembra sempre più essere lo scenario che si sta che si sta configurando sotto sotto i nostri occhi da questo punto di vista ribadisco che non bisogna né essere tecnofobi né essere tecnofili in maniera irrazionale bisogna mantenere un pensiero pensante come l'abbiamo definito respingendo invece il pensiero pensato cioè quello che ci viene fornito già pronto all'uso e che non richiede la nostra elaborazione la nostra elaborazione critica sull'intelligenza artificiale naturalmente siamo solo agli inizi probabilmente quindi siamo all'inizio di un lungo percorso di cui possiamo solo vedere i bagliori all'orizzonte questo rende particolarmente problematica la sua interpretazione e il suo pensiero critico quindi direi che in questo contesto più che mai dobbiamo dobbiamo ragionare sulla possibilità dell'uomo di permanere sulla faccia della terra e di non essere sostituito come abbiamo detto sembra già che effettivamente quella famosa definizione che usava Nietzsche Übermensch che è interessantissimo come concetto perché ha dato vita a ermeneutiche molto differenti nel primo novecento come noto l'Ubermensch veniva letto come superuomo a tinte razziste nel secondo novecento diventa l'oltreuomo di sinistra post borghese adesso sembra che siamo una terza possibilità ermeneutica il post uomo l'uomo ormai superato nella tecnica o ibridato nella tecnica e quindi in qualche modo dobbiamo esercitare più che mai la capacità di pensiero tenendo sempre presente con Aristotele che siamo ancora oggi lo zone logo necon che eravamo duemila anni fa cioè l'uomo come unico animale capace di pensare al proprio rapporto con il mondo è all'essente nella sua totalità anche nella dimensione dell'intelligenza artificiale ti ringrazio molto Diego di questo intervento di chiusura che assieme a quello di Pier Giorgio Odifredi perché il dibattito veramente lo abbiamo alla conclusione credo abbia testimoniato il valore dei vostri studi la scientificità del dibattito l'originalità la piacevolezza che avevo immaginato l'ho ritrovata tutta e anche più e allora io l'invito che ve lo faccio io cercate gli originali diffidate dalle imitazioni se prendiamo ancora una volta questi benedetti strumenti e guardiamo i social io credo veramente che sia un mondezzaio perché si vuole davvero far proliferare dei contenuti che non sono contenuti di valore e dunque si va a perdere tempo sono un po' preoccupato per i ragazzi che conducono questa vita sui reel e quindi voi di instagram voi tiktok credo troppo che abbiano una conoscenza molto orizzontale e a noi invece ci piacerebbe pure verticale perché ci piacerebbe un po' un approfondimento e credo che quelle famose parole di cui sopra la partecipazione la consapevolezza la responsabilità siano solo espressioni di quella unicità del pensiero critico e quella capacità di comporre un dibattito che voi vedete com'è bello e quindi ancora una volta ti ringrazio di avermi chiamato e ringrazio tantissimo ancora il professore Odifredi e il nostro Odigo Fusaro perché ritengo che ecco per me è stato questo un momento di crescita personale le idee che mi sto facendo ascoltando di partecipando anche in questi format che durante l'anno conduciamo perché noi di Ilz mi piace pensare sia veramente un appuntamento che si tiene a desenzano ma che poi duri un anno intero quindi che possa camminare con i nostri incontri in Vaticano a Milano e negli Stati Uniti e io ecco sono molto fiducioso questo potrebbe essere il messaggio finale magari loro non sono d'accordo ma mi permetto di dire sono fiducioso nella misura in cui sentiamo tutti questa chiamata alle armi vale a dire alle armi della consapevolezza del profondimento della responsabilità del dialogo generazionale e quando troviamo dei cattivi maestri come opinione pubblica come i singoli cittadini siamo in grado di dire ma che stai dicendo l'altro giorno a me è successo vabbè noi sapete che i Napoletari hanno una filosofia gigantesca millenaria quindi forte l'altro giorno mi è successo che come al solito l'intelligentone di turno mi spiegava che Elon Musk già sta puntando quindi andare su Marte e io ho detto guarda si potrà pure andare su Marte no ma quello lo sta facendo perché ora scopperà una grande guerra e quindi quello si è già preparato per andare su Marte guarda mi fa pure piacere che scopperà una guerra perché chi tiene i conti da napoletano quasi gli ho risposto chi tiene i conti in ordine crede sta sempre pronto sta sempre perché noi non sappiamo l'ora tu la sai invece che sono le 6 e 5 e quindi dobbiamo chiudere velocemente voi non sapete l'ora ma il tema è appunto quello di vivere con coscienza con consapevolezza allora io ho detto a questo siccome Musk tu non lo conosci non ci parli non la voglio proprio sentire sta storia ecco non la voglio proprio sentire cambiamo canale questo è l'augurio che vi faccio spegnete sti cosi e riflettete con il vostro buon cuore grazie davvero applausi grazie a tutti